Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video dove vi mostrerò con un timelapse le varie fasi della realizzazione di questa mia ultima apple. È una tigre sibiriana, realizzata su una tela al 100% con colori acrilici. Per il fondo, invece, ho usato degli smalti e la tecnica del dripping. Volevo che il risultato fosse un quadro molto moderno, che unisse la precisione dei dettagli della tecnica imperialista a un fondo astratto. Se il video vi piacerà, mettete mi piace e mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi sui miei canali social, trovate il link della mia pagina Facebook e della pagina Instagram in descrizione. Se voi volete vedere tutte le mie opere, collegatevi sul sito www.tizianasanna.com Ciao! 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 Ciao!